Voi non avete capito, o per meglio dire, non volete capire che cosa significa Corleone. Voi state giudicando degli onesti galantuomini che i carabinieri e la polizia hanno denunciato per capiccio. Noi vi vogliamo avvertire che se un solo galantuomo di Corleone sarà condannato, voi salterete in aria, sarete distrutte, sarete scannati come pure i vostri familiari. Adesso non vi resta che essere giudiziosi, sare giudiziosi, sare giudiziosi, sare giudiziosi, sare giudiziosi, sare giudiziosi, sare giudiziosi. E' un po' di me, e' un po' di me, e' un po' di me E' un po' di me, e' un po' di me E' un po' di me, e' un po' di me, e' un po' di me Grazie a tutti